Let's go of everything Let's go of everything Non so se il braccio di Vangioni A impattare la palla Doveri era un metro Non ci poteva arrivare Donnarumma E' stato tirato in maniera perfetta Questo rigore da Di Bala Sarà un post partita molto caldo Quello a cui assisterete Perché chiaramente questo calcio di rigore Che ha fatto arrabbiare tantissimo I tifosi del Milan